Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Leonardo Bardazzi. In Fipilì per lavori, coda di un chilometro tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze. In A1 traffico rallentato tra Sasso Marconi e il bivio A1 variante di valico Baccheraia in direzione Roma per materiali dispersi in carreggiata. Ancora in A1 tra Chiusi e Valdichiana in direzione Bologna c'è un veicolo fermo in avaria. Per quanto riguarda il traffico cittadino, oggi in orario 9.14 in via Sant'Agostino, piazza Santo Spirito sarà chiusa la direttrice da via di Mafia a via delle Caldaie. Sempre oggi dalle 9 alle 19 per un intervento con piattaforma aerea. A Firenze scatterà un divieto di transito in via del Moro. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!